Allora torniamo a noi, adesso chiedo a lei un po' il suo intervento, che cosa ne pensa? La gente ha paura ed è corretto che si difenda, abbiamo rivisto questo patto per la legittima difesa, questo concetto, oppure tutto sommato si tratta di piccoli aggiustamenti ma è corretto sedare gli animi, quindi avere grande cautela, grande fermezza d'animo, non farsi prendere dall'emozione, insomma diventare supereroi. Noi siamo la prima periferia di Padova, viviamo su tre paesi, sono consigliere di Tarolino di Comune di Curtarolo, Vigo Dazere e Caloneghe, la sensazione ce l'hanno di paura i cittadini, lo posso dire perché noi come attività siamo fuori molto tempo con i gazebi e altre cose, una volta quando venivano… Per quello le ho detto paura perché ho visto… Quando venivano i cittadini e i gazebi ti chiedevano la strada, ti chiedevano una cosa, adesso ti chiedono la sicurezza, cosa fate per la sicurezza, cosa intendete fare per la sicurezza, non credo che uno voglia difendersi e fare un eccesso di legittima difesa, però chiedono sicurezza dai sindaci, dai consiglieri e da chi fa politica, la sensazione è proprio una sensazione di abbandono, di abbandono totale da parte, ma non soltanto dello Stato, anche di qualche sindaco che investe più in altre cose che non fa sulla sicurezza, è questo che i cittadini ti chiedono, la violazione del domicilio, comunque questo è il mio parere, ogni volta che viene avvolato il domicilio, la legittima difesa è legittima difesa, non ci sono necessari di legittima difesa, se noi cambiamo il scenario adesso e si immaginiamo di essere a casa nostra alle 4 di mattina, che uno mi apre la porta, mi sfonda la porta, con i figli attaccati, cosa facciamo? Guardo se c'è una probabilità di fuga, guardo se c'è un'altra cosa, no, reagisco se posso, naturalmente non con tutti i mezzi di attenzione, perché sì l'uso delle armi può essere concesso, ma dopo una serie anche di, c'è bisogno del psicologo, c'è bisogno del poligono di tiro, sono bisogno di tante cose, però la legittima difesa è legittima difesa, il diritto romano lo prevedeva, il primo diritto romano lo prevedeva, uno che invade la mia proprietà, ho il diritto di difendermi e questo è quando i cittadini ti chiedono, non ti chiedono di difendersi da solo secondo me, ma chiedono, chiedono di essere più sicuri, non si possono le forze di pulizia, facevo così un esempio anche nel nostro territorio, forze di pulizia comunali, magari con poca esperienza, con poca formazione, vanno solo a fare delle multe, diciamo, delle infezioni al codice della strada, no, anche la pulizia municipale deve dare sicurezza ai cittadini, secondo me ci sarebbe meno abuso di legittima difesa se il cittadino fosse molto, ma molto più protetto, se tutte le tematiche fossero improntate sulla sicurezza, poi certamente è modificare questa legge, non si possono condannare chi si difende. Quindi il consigliere le dice che a livello locale comunque si può fare di più, questo si può fare di più, gli dico, la forza di pulizia può essere affiancata da qualsiasi altra cosa, si faranno delle convenzioni, però bisogna fare qualcosa nel territorio, ma la violazione a domicilio non è solo violazione a domicilio, viene violato anche all'interno la tua intimità quando entrano a casa tua, perché una volta usciti, una volta usciti ti rimane per sempre, io ho visto gente con i furti che deve ancora, ha bisogno del psicologo per superare questa cosa, questa è una violenza ancora più maggiore, perché viene violato due volte a casa tua e psicologicamente. Assolutamente, cominciamo un po' a sentire anche i pareri adesso legali, avvocato Fratellone cominciamo con lei, poi anche lei avvocato, insomma dopo intervenite anche tutti gli altri, ha visto quello che è emerso, un altro dato appunto dell'Ipsos, quindi l'Istituto di Ricerca, un italiano su due si sente insicuro ed è aumentata del 12% la vendita di antifurti, complessivamente abbiamo un più 30%, è una specie di tassa, perché… Quindi l'economia gira. Eh sì, l'economia gira, bravissimo, però è una specie di tassa a questo punto, se anche legittimo o non legittimo, io devo farmi un corso per imparare a sparare, devo comprarmi un'arma, devo comprarmi l'antifurto, metterne uno o due, le sbarre alle finestre, altro che tassa è questa, per la proprietà diventa notevolissima. E alcuni ci hanno scritto, ma perché lo Stato non risarcisce chi subisce invece un danno all'interno della propria abitazione? Benissimo, io non reagisco perché tu, Stato, se no mi sanzioni, qua 325 mila euro mi sembra una cifra abbastanza rilevante, perché mi sono difeso, e perché non posso chiedere un risarcimento allo Stato? In Europa non c'è niente che ci dia, lei che è un avvocato penalista, questo lo giro dopo anche agli avvocati presenti. Bellissima domanda. No, no, io abbiamo delle soluzioni, per esempio in Olanda, però a me è molto piaciuta la soluzione che la Lega ha fatto a livello di proposta di legge, mi riferisco alla proposta di legge 2892 del deputato Nicola Molteni, in materia di legittima difesa. Ce la racconti perché forse non tutti ne sono a conoscenza. Perché tra le proposte che ho visto fatte è una tutto sommato delle più semplici e immedesimandomi, non solo perché lo faccio per lavoro, ma con ciò che è stato appena detto poco fa, se mi entrano in casa alle 4 di notte e io un istante prima ero in fase REM, stavo sognando tranquillamente, sento dei rumori, vedo delle luci, io sono assolutamente impotente, prima di tutto perché non ho la capacità di razionalizzare quello che sta accadendo, di programmare una reazione che sia proporzionata a un'offesa che non conosco, poi devo istintivamente creare una piramide di valori, una gerarchia, cose più importanti, che metto da parte gli ori, che vado a vedere i bambini nella camera accanto, cioè veramente, e quanti saranno che entrano e come sono armati, io vedo solo la luce delle torce, cioè diventa difficile per l'uomo comune, per l'uomo medio che viene aggredito nella sua intimità, quindi la serenità familiare, la famiglia, la proprietà, è stato detto prima dall'assessore Buffoni, cioè le cose che sono l'ABC della nostra realtà sociale, programmare, posso rispondere o non posso rispondere, se sì, che arma devo usare per difendermi, un lastrello, il fucile che ho, o la pistola che ho in cassaforte, e se l'offesa poi non è proporzionata, vengo accusato, e se vengo accusato, di che cosa risponderò, di un reato più grave, di quello per il quale viene incriminato l'aggressore, e se per caso vi provoco dei danni, mi chiede i danni, io stavo vedendo questa notizia da un giornale, entra in casa altrui, il cane lo azzanna, e lui che fa? Chiede i danni. Allora, si diceva, il cane che morde una persona non fa notizia, ma l'uomo che morde il cane sì, dal punto di vista giornalistico. Oggi si è aggiunto una terza fattispecie, se la persona che viene morsa dal cane è l'aggressore che di notte ti è entrato in casa e ti chiede i danni, siamo al paradosso totale. Però questa è l'attacolo a quale ci devono misurare. Magari era assicurato. Magari era assicurato, dico. Magari era assicurato. Quella proposta che è stata fatta si compone di un comma solo, tutto sommato. Ripeto, la semplicità in questi casi gioca un elemento fondamentale, perché poi deve essere interpretato non solo a freddo dai magistrati, dagli avvocati, dagli inquirenti, ma dalla stessa persona che si deve avvalere di quell'articolo. Si presume altresì che abbia agito per difesa legittima colui che compie un atto per espingere l'ingresso, mediante effrazione o contro la volontà del proprietario, con violenza o minaccia di uso di armi da parte di persone travisate, cioè con il volto mascherato, o di più persone riunite in un'abitazione privata o in ogni altro luogo dove si è esercitato un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale, che era quella componente introdotta nel 2006, quando Berlusconi subentrò a Prodi e poi abbattuta la sentenza della corte. Questa è verificata prima, è ferma in commissione, è passata la commissione, è arrivata in febbraio 2015 e è ancora in commissione per esame, cioè sta prendendo polvere per chiamare le cose con il loro nome. Quindi secondo lei non ci sarà speranza? Perché lo dico che non avrà speranza? Perché lo dico che non avrà speranza? Perché ho ritrovato le dichiarazioni che mi ero già notato tempo fa di Renzi, quando rilasciò una dichiarazione all'ANSA, dove il titolo era l'articolo 52, appunto quello sulla legittima difesa è modificabile, l'attuale Premier disse che il codice dice che ci deve essere proporzione e chi si trova in casa qualcuno ha una reazione comprensibile, rispetto alla sicurezza saremo sempre in prima linea ma senza stumentalizzazioni. Fin qua uno slogan, però sembra dire ci preoccuperemo di questo problema, faremo qualcosa. Enrico Costa, vice ministro NCD, ha rilasciato all'epoca la dichiarazione alla stampa, la criminalità sta cambiando, il legislatore ha il dovere di cambiare le pene, ma non esiste il diritto di vendetta. Qui nessuno sta parlando del diritto di vendetta, stiamo parlando di un codice che è rimasto quello arcaico del 1930 in cui la legittima difesa era misurata su una situazione di uno scontro tra due pari in strada. Oggi il problema è che ti fanno l'aggressione in casa finché dormi, finché hai la famiglia presente e poi ti chiedono anche i danni. Cioè si è completamente rovesciata la situazione. Ecco perché a fronte di un rovesciamento la proposta Nordio ha senso concreto perché si dice tu Stato, io ti pago le tasse, mi devi garantire una serie di servizi, oltre che la salute, l'istruzione, la difesa con l'esercito, mi devi garantire anche la sicurezza. Tu Stato sei inadempiente di questa obbligazione principale, io mi difendo e sei tu che mi devi provare che tu Stato saresti potuto intervenire utilmente. Quindi il problema qual è? Rovesciare l'ordine della prova. E perché nessuno l'ha mai rovesciata? Non ha mai posto una questione anche... Il codice oggi è così, va rovesciato il sistema e va introdotto un ordine della prova contrario, sei tu aggredito, malvivente che mi sei entrato in casa, che dovrai dimostrare che potevo chiamare i rinforzi che sarebbero arrivati in tempo utile. Perché non è pensabile se io sostanzialmente vengo invitato a casa di uno degli ospiti qui presenti, non è che devo dimostrare un domani che avevo un invito scritto. E nello stesso modo chiedo scusa solo se una persona mi entra in casa, sarà lui che dovrà dimostrare che aveva il permesso, non io che devo dimostrare che avevo la proporzione e la reazione. Qui siamo arrivati all'assurdo, ma credetemi. Lei sa che io vado un po' sullo specifico, le faccio sempre un po' di domande. Secondo la sua esperienza, quali sono gli eccessi di legittima difesa più comunemente individuati dalla giurisprudenza? Fondamentalmente due. Posso reagire usando il bastone che ho accanto perché era il manico di un piccone e posso lottare con quello, invece prendo la carabina e gli sparo sulle gengive. Chiaramente se potevo usare il mezzo meno forte, quel problema di proporzionalità, avrei dovuto usare quello. La seconda cosa è inseguo il ladro in fuga e gli sparo la schiena finché sta scappando. In quel momento lì, se lui sta scappando, io non posso più difendermi per impedire che il reato venga consumato. Perché non c'è in pericolo in teoria. Ormai il pericolo è cessato in quel momento, gli sarà un problema di acciuffarlo, di identificarlo. Su queste cose la giurisprudenza è oscillante però. Lei ha evocato su questo secondo punto, sarebbe d'accordo? È d'accordo con l'attuale giurisprudenza? Io sono dell'idea, è un'idea personale, so che molti italiani la condividono, se entri in casa mia ti sparo. A prescindere. Punto. Devi imparare che se vieni da me e ti fai del male sarai un morto sul lavoro. Il caso del concittadino del sindaco, lanciava il registratore di cassa e lui gli ha sparato. Sì, ripeto, con il beneficio che poi tutte queste cose vanno verificate, però siamo di fronte ad un'attività commerciale che è collegata con l'abitazione. Per cui non c'era solo il furto, ma c'è anche da parte del nostro cittadino la preoccupazione per la famiglia, perché erano lì. Adesso sì, c'è la perizia medico legale che individua la traiettoria della pallottola e lì è molto probabile che il ladro avesse un corpo contundente che stava lanciando, però il tema vero è che qui siamo di fronte ad un'attività commerciale collegata con l'abitazione della famiglia e quindi tutti i ragionamenti che sono stati fatti adesso. Quindi non c'è solo la necessità di difendere il patrimonio, ma c'è anche la necessità di difendere la famiglia. Io sono d'accordo però dovrebbe essere introdotto, ed era una delle discussioni sul progetto di legge Nordio sul punto, anche il concetto che bisogna dire io posso difendere il mio patrimonio, cioè anche se l'attività professionale e aziendale fosse scollegata dalla famiglia, io devo poter comunque essere tranquillo, quello che nessuno verrà a portarmi via con un poco di cose che ho. Ma perché l'aggredito deve presentare questa cosa? Sembra paradossale, se noi portiamo questi casi qua in altri paesi restano sconcertati. Io voglio sentire adesso su questo discorso perché nell'eccesso colposo che è l'articolo 55 di cui stiamo disquisendo c'è una margine di discrezionalità interpretativa del giudice relativamente anche all'importanza del bene minacciato, che però secondo me è estremamente soggettiva, perché per una persona che ha soltanto quelle quattro oggetti, quell'importanza è somma perché li garantiscono da vivere, per chi viceversa ne ha 8 mila è un'importanza relativa, poi possono essere oggetti con un valore affettivo, irrecuperabili, possono essere oggetti, cioè può essere la propria persona, per cui anche qui è una discrezionalità, un margine di libero convincimento del giudice, questo come andrebbe discusso, io le do la parola però richiedo un po' di tempo che su intervento dopo la pubblicità, quindi lasciamo in suspense, se no siete le spettatori, lei intanto ci pensa, pochi secondi pubblicità.